L'errore più grande è stato nel 2005 quando Autogrill ha fatto un'acquisizione nel mondo retail. Autogrill vende panini, quelli dei panini. Quelli del panini nel 2005 comprono una società che vende negli aeroporti profumi, che era una diversificazione incredibile, cioè era industrialmente una figata. L'abbiamo spiegata malissimo, ok? È stato un disastro. E per me è stato un errore perché io era solo 5 anni che facevo questo lavoro, però le cose giuste da fare le sapevo. Non ho avuto nel 2005 il coraggio di alzarmi e andare a dire al mio CEO guarda che quello che sta facendo il CFO, quello che sta facendo gli advisor è sbagliato, ok? E l'abbiamo pagata tutti perché è un'acquisizione che era... cioè il titolo ha sofferto un'infinità.